Ben ritrovati, primo fine settimana di maggio caratterizzato da una forte instabilità, diverse perturbazioni interesseranno le aree del nord Italia con piogge temporali, grandinate, intensificazione dei venti da nord a sud ma non mancherà nemmeno la neve a partire dai 1400 metri sulle Alpi. Vediamo il dettaglio con le grafiche, lo facciamo iniziando dalla sinottica per seguire l'evoluzione del tempo e vedete queste piogge a macchia di leopardo che riguarderanno qua e là un po' tutto il nord Italia, qualche pioggia si estenderà fin sull'Emilia-Romagna, sulla Toscana, sulle aree interne appenniniche, meglio al centro-sud invece dove avremo un'alta pressione ma non ben salda, infatti arriverà qualche pioggia anche tra Campania e Basilicata, eccola qui dal nord Africa. Dal nord Africa non arriverà solo questo, arriverà anche un gran caldo sulle aree del sud Italia e la sabbia del deserto che a causa dei venti meridionali risalirà fin sul centro-nord Italia. Ecco le previsioni, ecco le grafiche, domenica andrà a migliorare, ancora qualche pioggia però da segnalare sull'arco alpino, principalmente a Vare d'Aosta e Trentino Alto Adige. Lunedì torna al bel tempo, si apre una settimana sicuramente più stabile, più soleggiata, con temperature in aumento per il momento invece fino a 19-20 gradi, le massime. Ecco il sud, qualche instabilità come vi dicevo tra Campania e Basilicata ma che ritroveremo anche nella giornata di lunedì sulla Sardegna. Intanto una domenica caratterizzata dai cieli sereni o poco nuvolosi e temperature molto molto elevate sopra la media del periodo con valori massimi fino a 30-35 gradi sulle aree interne. Per il momento è tutto, a più tardi per nuovi aggiornamenti meteo.